come sono riuscito per la prima volta a ottenere un melone così bello grande e profumato e assicuro che non c'ero mai riuscito fino all'anno scorso mi venivano al massimo piccini così e anche un po problematici dopo un po di indagini di studio sui manuali classici e di consigli da parte soprattutto del mio fornitore di piantine sono riuscito finalmente anche a portare avanti una buona coltivazione di meloni e a farli diventare tutti così belli fantastici mentre lo portavo a casa in auto mi ha riempito tutto l'abitacolo del suo profumo e non mi era ancora mai successo con nessun tipo di melone nemmeno con quelli comprati sono partito due anni fa concentrando il punto fuoco delle sterpaglie in una parte precisa del mio campo e quindi bruciando le puntature in quel punto poi seguendo i consigli del galfagnino di pisa che vende un bivaista che vende piantini da orto e che saluto nel punto fuoco ho piantato i baccelli nel mese di novembre dell'anno scorso i baccelli poi sono le fave sono cresciute ne ho raccolte una cinquantina di chili le ho anche essiccate hanno fatto attraversato il loro ciclo vitale e ho espiantato le piante e le ho messe sotto al terreno applicando una tecnica tradizionale di cui ho già parlato cioè il sovescio quindi ho scavato dei fossati con la vanga di circa 30 centimetri ho interrato le piante delle fave dei baccelli dove poi avrei messo piantato le piantine dei meloni e anche delle angure dei cocomeri ma anche delle melanzane e dei peperoni e dei fagiolini una volta preparato il terreno mi sono trovato ad aver applicato due tecniche tradizionali il debbio cioè l'incendio del terreno che trasforma i vegetali in concime naturale cioè in brace e il sovescio mi sono trovato anche con le piante delle fave che hanno rilasciato essendo delle leguminacee nel terreno una buonissima quantità di azoto quindi il terreno era già arricchito avendole poi interrate anche creando un fertilizzante naturale anche il sottosuolo cioè il sotto di dove poi ho posizionato le piantine dei meloni era arricchito e quindi le piante sono state subito bene ho inoltre scelto una posizione abbastanza ombreggiata cioè a ridosso di un canneto di bambù quindi una posizione dove il sole arriva in certe ore e non arriva in altre ore quindi mi sono trovato dei buonissimi meloni di cui sono fiero e che degusterò sicuramente domani perché stasera ho già fatto buona coltivazione dei meloni e buon raggiungimento dei migliori risultati possibili con il vostro orto arrivederci